Il suo spettacolo è stato un successore, signor Tsubuya. Spero sia stato bene qui da noi. La ringrazio e spero di tornare molto presto. Ora affrettiamoci. L'auto è già arrivata. Ecco la sua mancia. Oh, grazie infinite! L'auto è arrivata. L'auto è arrivata. L'auto è arrivata. L'auto è arrivata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.